Papà comprami le Poké Io giocavo ai videogiochi dei Poké ma no alle carte Atta bene le carte ti spacco la testa per terra Questo cos'è? Il box di Amsterdam? Viva l'erba No regà Exodia Good job team Ragazzi questo video parte Molto lento ma poi esplode Verso la fine mi raccomando 50.000 like Faccio il pacco pelin con FaviJ 100.000 like raddoppiamo le bustine Buona visione Bene ragazzi questo è mio Bentornati in questo nuovissimo video Di Pokémon carte collezionabili Oggi insieme a Surry e a Legas Andremo a fare il pacco opening Di carte di Pokémon più grande d'Italia O almeno è quello che pensiamo Io gli ho detto che secondo me è il più grande Perché abbiamo cercato c'era tipo un box da 36 E noi abbiamo un box da 36 più tre bustine Che ci avete regalato voi Quindi 39 bustine Per Stepney per Stepney Tre bustine per Stepney Anche questa qui è per Stepney Da Ce l'ha scritto pure il nome Andrea e Kian Box da quanti pacchetti sono? Da 35 perché l'ho comprato in un'edicola E una se l'erano inculata 35 più 1 36 più 39 39 pacchetti 13 bustine a testa Vabbè nel caso nei commenti scriveteci Se c'è qualcuno che ne ha fatto di più no? Anzi se qualcuno ne ha fatto di più 50.000 mi piace E li superiamo Noi facciamo più bustine di varie Però pagate a Stepney Papà comprami le Poker Io giocavo ai videogiochi dei Poker Ma no alle carte Apriremo tutte le bustine in contemporanea E cercheremo di trovare Più carte possibili Questi sono vostri ragazzi E me ne avete regalati voi Quindi secondo me Sono quelli che portano più fortuna Anzi quando sei abituato Noi ci metto una vita Aprivi i pacchetti Eh vai tranquillo Stai caldo zio Mettetele così A testa all'ingiù Oh c'ho pulpix Visto che sono 39 bustine Io direi di sbrigarsi ragazzi C'è questo video di un'eternità Preparatevi Iniziate a sbustare Angela E chi trova la job Oh ma siamo trovati tutte le stagioni Onyx Pikachu surf Questo è fuori serie Reverse Ok c'ho il magma Dobbiamo aspettare l'ultima carta No zio No te ne vede Avevo lo stesso caso Io c'ho l'ultima raga Anch'io 3 2 Muoviti Eh l'ha fatta vedere No no è la prossima 3 2 1 Via Non era l'ultima Perché stavo a scherzare Bam Oh la più buona la trova Dai ho zio Seconda bustina Via Magicar Charmander Seal Pulpix Rattata Magmar Carta del team rock Che tra l'altro qua Charizard Charizard Reverse Ma mi mancava Figo Reverse mi mancava E io sono pronto per l'ultima No a me me ne mancava Oh 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 Nido king turbo raga Questo non mi aspetta Raichu Io nine tells Vabbè raga Vabbè c'è sta l'ultima zio E gira Vabbè c'è sta l'ultima zio E poi l'ex me ne vado Mio tu Oh Mio tu Eh vabbè però Figo Mio tu Sai che sto vincendo io raga No vaffanculo Mio si illumina Anche mio si illumina E quindi Ma la sua è turbo Vale di più Raga Pazzo Agostina per tutti Quindi siamo già a 9 Diglett Charmille Sai che stavo? Charmander Voltorb Energia profusione Allenatore Vulp Perché c'ho già la reverse qua? Mi sa che ho sbagliato qualcosa Vabbè Pokédex La mia è tutta luminosa Sì è la reverse Attenzione zio È la reverse Non ho trovato niente La mia rara è un cazzo di Farfetch A me lo rati Che schifo Che schifo Ma sti cazzi che si illumina In ogni pacchetto C'era una che si illumina Tu neanche ancora non l'ha capito In tutte le bustine c'hai la reverse 100.000 like Porca Eva Come niente Nido King E capirai È turbo Oddio ce l'avevi? Ma noi vogliamo molto di più Charizard ce l'avevi no? Ma quante carte ci sono in questi pacchetti? Nidoran Gastro Ponita Poliwak Pikachu Faltorb Poliwak Widol Secondo me qui c'è roba raga Mi sembra di giocare a poker zio Non capisco perché è qui la mia reverse Dovrebbe essere dopo La reverse dovrebbe essere la penultima Infatti sto sbagliando qualcosa Mi sa che stai a fare qualche casino Anche lui c'ha la reverse qua Legamo e lo leviamo La natura del cazzo Questo è la natura Uuuuh La mia rara è un electrode del cavolo Ma che schifo Zio Electabuzz Hoppalla Che schifo Non abbiamo trovato niente finora Dove sono le carte belle? Zio ma ci stanno 77 proprio Sono fallati A me è Blastoise E tu sai che lui dica La bustina che mancava? Sono inculata lui la full art Te lo dico io Dobbiamo trovare almeno una full art Ah come dice Sasha che portano il cuore Perché è già tornato a casa e non c'è Venusaur porta fortuna E c'erò io il pacchetto Siamo sicuri di stare facendo questa cosa in modo corretto Perché è sempre la prima l'ultima La carta è illuminata Ma la carta è illuminata è normale A che pacchetto siamo zio? Ah boh dodicesimo Dai Electabuzz Brouzzi Monico Sponita Brouzzi Legame Allenatore Hunter Allenatore Fuori serie Fuori serie Viga Uuuuh Uuuuh È una full art È qualcosa di interessante Su un cazzo di duffrio 3 2 Uno VIA No cos'è sta cagata Uuuuh Rex È bomba Mega Venusaur Rex Non ci credo Ma questa l'avevi comprata pure in Giappone se non sbaglio Simile Molto simile Sì era un'altra Io ho trovato due electrode nello stesso pacchetto Ma che fai io strunzo Che schifo Butta butta Non ho mai avuto così tanta sfiga L'unico la storia mi avete dato Da me sto Venusaur va Mi propongo uno scambio proprio Vai Eccoci Sta a vedere È l'istinto zio Bullpix Riddle ma quant'è Riddle Riddle ammaso Graulith 77 Maronella a livella 90 la paura Maggio Maggio Allenamento Energia Alleatore Canesetto Anche io C'ho un coughing Io C'ho un weedle Me la sento Zio c'ho qualcosa Sorriso Di nuovo 3 2 1 Via Ma come Ha trovato me anche a Venusaur Full art Non è possibile Non è possibile Sono miei questi Non è possibile Non tocca Non tocca le carte Ti spacco la testa per terra Zio guarda che sculato di vero 170 euro costa sto box Quale vale più la full art È la full art ovviamente Gli artwork sono diversi Su riceve un culo sfacciato Dai dai Non ho parole Io ho trovato chance Poi facciamo vedere le carte più importanti Nintels Sì alla fine facciamo vedere No queste no Le reverse Il reverse Questo è holo Ma è dillo zio Non lo vedi È impossibile trovarci Due full art in un box Quindi la vedo giù Però Due full art in un box È possibile Però se noi i box Sono sfigati C'è Meglio le carte sfuse Seal Stario Magnemite Rozi Minca elettro Furetto Polywag Elefante Il allenatore del cazzo Zio questo è fuori serie Fuori serie Uuuu fuori serie Allenatore Vuoi cazzo uscire una ex a me Via Uuuu No non è possibile D'altro Ho anche noi Allora Venus out ex Mega Venus out ex E mega Venus out ex Full art Dai Tutte e tre ce l'abbiamo zio Dai Questo cos'è Il box di Amsterdam Viva l'erba Non lo so Zio però Noi abbiamo trovato tutto Te hai trovato un cazzo Io ho trovato niente Sei un po' schiore Sì Smoke and fly Vabbè l'altro mio tu qua Io voglio aprire il cazzo Sei sicuro? Sì Non esce un cazzo Non esce Non esce niente C'è il ticaccio grasso qua Onyx Sario Allenatore E il Porygon Carino Geronimo Stilton Allenatore legame mentale con Pidgeot Un altro allenatore Simone Pacello A chi l'ho data la carta a te Attenzione col Farfetch Farfetch reverse Macho perverso 3 2 1 1 1 Che schifo Che schifo Sto detto di credere al cuore delle carte Tra poco soffitto Venusaur Charizard Charizard Anzi Questo lo lascio così Mi pio Blastoise Te Charizard E te te via Venusaur Va bene Prendiamo forti fortuna Sto Venusaur E cavolo stava trovato da solo lui Secondo me i box sono tarocchi zio Io secondo me Secondo me sono tarocchissi Trovato Venusaur Adesso non trovi più un cazzo Magica Capcata il piccolo Via Sei per te 18 Via 24 Via 32 È fantastica L'energia verde Un altro Pikachu Non trovi seria Niente ragazzi Brock Quello cicato Magmar Mi porta sfiga Che è sta roba Attenzione Allenatore Mi dora 3 2 1 Via Via Su Oh mio dio Charizard Zio A caso Ti ho rubato il Charizard Allora io ho trovato Charizard Charizard X Charizard Olo Le stampa Ma come si è in culo a Zapdos Ma come si è in culo a Zapdos È bello È bello Zapdos Dio questa è bellissima È mio Charizard Manca Blastoise Ce la devi Charizard X Sì Manca Blastoise adesso C'ho quello E come se vi si trovate tre io Se trovo Blastoise dentro Blastoise È una Blastoise exception Cos'è la cosa migliore che può uscire? Una full art Tipo di cosa? Dragonite X full art Mega Charizard X full art Dai e Surry No rega Exodia Wolfix Exodia Tancala Questo è fuori serie per forza Il Black Lotus 30.000 euro Widdle Ragazzi ma queste carte quanto valgono? Mi torino Questo è fuori serie Questo è fuori serie Bravo Surry E ti qua va Allenatore Aspetta c'ho ancora troppe carte Eh misti C'ho ancora altro allenatore Non è possibile Tre E tira a sto punto No non è possibile Ha trovato due Turbo in un box Non è possibile Oh mio Dio L'ha trovato Blastoise Ha trovato anche Blastoise Cioè io ho detto se trovo Blastoise in Blastoise è un Blastoise exception Turbo e Blastoise X Mega Blastoise X Nicchia Chi scambia questa scambia anche la prossima Olè guarda che rigiri io Va bene dai Medusa Stella marina Oh c'è sta Zeus Zio E' tornato Ghostbusters Erbruco Il Sasso Raga Odino Pokedex Questo è importante È il barone Getto di involuzione Raga io so pronto eh Ci sono anch'io Via Niente Vabbè navolo Good job Good job team Raga il penultimo pacchetto questo eh Penultimo raga Siamo tre a due a due Giusto per la cronaca Voltorb Tutti volti Se anche tu c'hai volti Eh no Energia Voltorb Dai eh Magnemite Energia Onyx Caterpie Mario Uno che corre Quanto è Bonormech Stuart Little Stuart Little Quanto è Bonormech Questo c'è qualche problema di gambe Charmander Charmere Qui c'è per forza Mega Charizard X Me lo sento dal cuore Raga No no aspetta Ci aspetta Ok ci sono C'è quello che c'è Me lo sento Via La revenge of stepney Su Bastardo 3 a 3 a 2 Surricade nell'obbligo Non tira attento le carte Quindi aspetta Aspetta Lucio Macchetto Se ne prendiamo una io Una te Vuoi cambiare Siamo 3 3 2 Quindi o pareggiamo Questo è il cuore delle carte Io vuoi cambiare con me Questo è il cuore delle carte Questa è il cuore delle carte Tieni Cambio Ora trovo la carta più rara Che tu possa mai immaginare L'unico modo Allora se tu ritrova una full art Aspetta Le vaste Vince lui va bene Se trova una full art Se c'è un'altra full art In sto pacchetto È un pacchetto bugato però Vinci tu Una full art Chi l'ha trovata? Lui Ah con mega Se ne trova un'altra Vince lui È un box In box di solito C'è una full art Ne troviamo due assurde Vabbè una full art Due turbo pure abbiamo trovato Una full art Due turbo E tutte le mega ex Non è possibile Gastly Allora io ho Hachiko Energia Topo giallo Sushi Fagliele vedere però papà Guardatele È Patrick la stella marina Dal milione Sto quasi fai canna Kakuna Il professore Ecco la canna È arrivata anche a canna C'è Stephanie che scorincia Porca puttana Non è possibile Non è possibile Era fallatissimo Sto box E' la terza turbo La trova papà Vidoino Raticate Beh raga Viu tu È una full art È un ex full art No non ho parole Sì la dovevamo Incidere tesure E partire un tuo figo Figo poi Fai cagare Zorre È il secondo che trovo L'ho trovato anche con Sasha È veramente il pack opening Più grosso Aspetta però No aspetta Adesso ricontrollare Ma anche di roba trovata Vai Aspetta dividiamola per bene Ora vi facciamo il resoconto Delle carte più importanti Che abbiamo trovato Non faremo vedere il reverse Abbiamo pareggiato Io e papà In un modo assurdo Però comunque tre turbo Se ne valgono di più Questo video li prende 50 mila 100 mila mi piace E facciamo l'iper pack opening Della storia Sì ne facciamo il doppio Il doppio Zio 72 Tutta la giornata Spacchettare Pikachu surf Pikachu volo Pikachu surf 3 Pikachu fuori serie 2 carte del Team Rocket Fuori serie Dodio di Makuni Executor Hitmonchan Olo Censi Olo Zapdos Olo Raichu Olo Ninetales Olo Per due copie Charizard Olo Questa qui in realtà Prima edizione Della vera prima edizione Guarda di 2000 euro Via U2X Venosaure X Charizard X Mega Blastoise X Mega Venosaure X Le turbo trovate tutte da Papa Vegas Quindi Nido King Turbo Machamp Turbo Starmi Turbo Poi Mega Venosaure X Full Art Trovato Assurri E il Pidgeot X Full Art Trovato Assurri Che dire ragazzi Questa roba raga È stato veramente un pack opening assurdo Io in realtà All'inizio ho detto Vabbè apriamo anche queste qui Queste me le hanno regalate loro Però ci farò un video a parte Che c'è stato Farò un video solo con le bustine regalate ai miei fan E cosa ci sta dentro qui? Ah queste sono espansioni diverse Queste nei futuri Stirpe dei draghi Lasciazione plasma Nero e bianco E confini marcati Ragazzi noi speriamo che questo video vi sia piaciuto Oggio mi è arrivata l'ora di andare a fare la fine Ragazzi Arriviamo a 50.000 like Mi piace però eh Ma avete vengato tutti quanta roba 100.000 mi piace Questi 50.000 like sono assicurati Se Federic vedo sto video sviene Grazie per la visione ragazzi Noi ci vediamo nel prossimo video Ringrazio anche i mates per la partecipazione Un saluto a Sasha Surri va a letto Sabe tutto Ciao Surri quello è il mio letto Dobbiamo fare la copertina Dobbiamo pure ballare Minta però sta poche volo un po' scomoda sulle chiappe Grazie per la visione